carissimi abbiamo appena celebrato l'ascensione di gesù al cielo e ci prepariamo per domenica prossima la pentecoste quando lo spirito santo senderà sulla madonna e gli apostoli in preghiera nel cenacolo prepariamoci insieme questa grande solennità invocando e con lo spirito santo ogni giorno nel nome del padre del figlio dello spirito santo il signore sia con voi signore geruchristo figlio del padre mando il tuo spirito sua terra fa abitare lo spirito santo nel coro di tutti i popoli che sempre servati dalla corruzione dalle calamità e della guerra che la siano tutti i popoli la beata verge maria sia la nostra avvocata a me vieni santo spirito mandano e dal cielo un raso della tua luce vieni padre dei poveri vieni datore dei doni vieni luce dei cuori consolatore perfetto ospite dolce dell'anima dolcissimo sollievo nella fatica riposo nella calura riparo nel pianto conforto o luce beatissima imbadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli senza la tua forza nulla è nell'uomo nulla senza colpa lava ciò che è sordido bagna ciò che è arido sanna ciò che sanguina piega ciò che è rigido scalda ciò che è gelito drizza ciò che è sbiato dona ai tuoi fedeli che soli in te confidano i tuoi santi doni donna virtù e premio donna morte santa donna gioia eterna vieni o spirito creatore visita le nostre menti riempi della tua grazia i cuori che hai creato o dolce consolatore dono del padre altissimo acqua viva fuoco amore santo crisma dell'anima dito della mano di dio promesso dal salvatore irradi i tuoi sette doni suscita in noi la parola si luce all'intelletto fiamma ardente nel cuore sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore difendici dal nemico reca in dono la pace la tua guida invincibile ci preservi dal male luce ed eterna sapienza svelaci il grande mistero di dio padre del figlio uniti in un solo amore amine regina dei cieli rallegrati alleluia cristo che hai portato nel grembo alleluia e risorto come aveva promesso alleluia prega il signore per noi alleluia rallegrati vergine maria alleluia il signore è veramente risorto alleluia o dio che nella gloriosa risurrezione del tuo figlio ha ridonato la gioia al mondo intero per intercessione di maria vergine donaci giunge la vita eterna per cristo nostro signore amen ave o maria piena di grazie il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad esse nell'ora della nostra morte amen gloria al padre e al figlio lo spirito santo com'era in principio e sempre nei secoli dei secoli amen l'eterno riposo dona loro signore risplenda ad essi a luce perpetua riposano in pace angio di dio anche se il mio custodi illumina custodissi regge e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste e per l'intercessione della verità verce maria i veri cadini potente padre figlio e spirito santo pace bene